GF VIP7, Edoardo Donnamaria ha tolto follow a Micolin Curvaia e Clizia. Terminata l'esperienza al grande fratello VIP7, la relazione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrerebbe proseguire a gonfie vele. A conferma di ciò e della volontà di chiudere col passato, il giovane volto di forum ha anche deciso di rimuovere il follow su Instagram a Micolin Curvaia e sua sorella Clizia in Curvaia. Nella giornata di venerdì 24 marzo, i follower di Edoardo Donnamaria hanno notato un gesto da parte dell'ex Jeffino che ha come accennato rimosso il follow, il segui, su Instagram a Micolin Curvaia e Clizia in Curvaia. L'accaduto non è passato inosservato, poiché quando Donnamaria era all'interno della casa di Cinecittà aveva difeso a spada tratta ai suoi amici compresa Micol, la quale è ovviamente al momento ignara della presa di posizione adottata da Edoardo. Clizia in Curvaia ha invece ricambiato il gesto di Edoardo Donnamaria, rimuovendo anche lei il follow all'ex Jeffino. Micolin Curvaia è entrata nella casa del grande fratello VIP7 come ex di Edoardo Donnamaria. All'interno del reality show di Canale 5, però, l'influencer siciliana ha intrapreso una relazione con Edoardo Tavassi. Al contrario, Donnamaria ha lanciato una lube story con Antonella Fiordelisi. Clizia in Curvaia invece, prima del grande fratello VIP7 aveva un ottimo rapporto con Edoardo Donnamaria. Poiché quest'ultimo è uno dei migliori amici di Paolo Ciavarro, il compagno di Clizia. Intervenuta a casa chi, la stessa Clizia in Curvaia aveva spiegato di essere in ottimi rapporti con Edoardo. Non mancando però di criticare l'atteggiamento di Antonella Fiordelisi definendola arrogante e presuntuosa. Adesso, lontano dai riflettori, appare chiaro come Edoardo voglia azzerare tutto per cercare di comprendere se può avere un futuro con la sua Antonella senza intromissioni esterne. Il gesto di Edoardo Donnamaria nei confronti di Nicolin Curvaia non è passato inosservato. Su Twitter, alcuni utenti stanno punzecchiando l'ex Jeffino mentre i fan dei donnalisi stanno dando ragione al fidanzato di Antonella Fiordelisi. Significativo il commento di un utente, ricapitolando Edoardo ha smesso di seguire Micol per compiacere la sua fidanzata. Non ha risposto a Murgia con cui era diventato amico in casa. Ha messo e segue a Matteo Diamante, amico della sua fidanzata e di Nikita, ma non segue Luca Onestini che lo consolava fino a e tarda mattinata. Meglio perderlo che trovarlo. Musica apus cu rapu si, pentru el e de bun sims sa ridic stacheta. Liric vorbin, sa ajunga la ea doar nasa cu racheta. S'o admire nave spaziale de pe Andromeda. Ăsta-i țelul, il execuzi ca pe Maria Antoaneta. Da'ia de când mă știu textu-i plin de dude, dumele dante printre dale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul, care am crescut pe scurt de la un p...